gentili telespettatori buona giornata per quanto riguarda il reddito di cittadinanza scattano i tagli all'assegno mensile si perde una certa cifra vediamo di che cosa si tratta ad aprile sarà più basso l'assegno l'accredito del reddito di cittadinanza a causa delle nuove regole che il calcolo nel sussidio che tiene conto anche di prestazioni assistenziali come la maggior azioni sociali e la quattordicesima vediamo che cosa cambia la maggior parte dei fruitori del reddito potrebbe ricevere una cifra più bassa del solito più bassa anche dell'ultimo mese quello di aprile rispetto al recente passato e il motivo è questo cambiano le regole che calcolano questo assegno che da gennaio mette dentro anche le prestazioni assistenziali come le maggiorazioni sociali e la quattordicesima lo ha specificato l'inps in una nota in cui scrive che per quanto riguarda la mensilità di marzo che verrà pagata ad aprile per alcuni beneficiari il di reddito di cittadinanza e pdc pensione di cittadinanza sarà applicato un conguaglio a compensazione di quanto ricevuto in più nel mese di febbraio per la mancata applicazione del ricalcolo dell'assegno in presenza di altre prestazioni assistenziali l'inps assicura però che il debito sarà rateizzato e sarà garantito un importo minimo nei casi di conguagli negativi superiori all'importo della stessa rata mensile quindi in alcuni casi non so i 500 euro potrebbero diventare zero per andare a compensare quello pagato in più nei mesi precedenti proprio per evitare questo l'importo di questa decurtazione verrà rateizzata nel tempo le operazioni di conguaglio si concluderanno nei prossimi giorni come è la colpa dei tagli e da ricercare nelle due nuove categorie di contributi economici nel SIUS il SIUS è l'acronimo di sistema informativo unitario dei servizi sociali come l'inps nel messaggio numero 1244 del 2022 ha scritto e con cui è avvenuta l'aggiunta ai due benefici queste misure adesso saranno considerate nel calcolo del sussidio statale allora quando si calcola l'importo del reddito di cittadinanza dalla pensione di cittadinanza si tiene conto di eventuali altri bonus che il nucleo familiare percepisce come sostegno al reddito in questo caso l'integrazione che spetta titolo di reddito di cittadinanza sarà ridotta per la regola che vuole come il reddito familiare sia calcolato al netto delle prestazioni assistenziali indicate dall'isee ma con l'aggiunta di quelle in corso di godimento il sussidio prevede due differenti componenti da una parte c'è l'integrazione al reddito familiare e dall'altro il rimborso delle spese di affitto per un importo massimo di 280 euro al mese come alternativa la famiglia può ricevere un contributo inferiore di 150 euro al mese come rimborso per la rata del mutuo cosa cambia con la 14esima a gennaio l'inps aveva dichiarato che per calcolare l'importo del reddito e della pensione di cittadinanza rientrano anche le maggiorazioni sociali quindi gli aumenti pensionistici che spettano alle categorie di soggetti con determinate condizioni di reddito tra i quali ritenuta rientra anche la quattordicesima non fanno parte dei tagli sul reddito non fanno parte invece le prestazioni come l'indennità di accompagnamento in conseguenza dell'applicazione della nuova disciplina possono verificarsi variazioni nell'importo della rata della prestazione reddito di cittadinanza pensione di cittadinanza rispetto a quanto percepito in precedenza in particolare nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma decadenza dal beneficio reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria bene queste sono le novità pertanto molti potranno trovare più bassa la pensione di cittadinanza proprio perché a febbraio sono stati pagati più soldi di quelli dovuti ma se la detrazione dovesse essere più alta della rata mensile cioè non so ad esempio vi arrivano 580 euro ma ve ne vogliono togliere 580 quei 580 che vi vogliono togliere li metteranno a rate non si sa le rate se sono di sei mesi otto mesi un anno un anno e mezzo però l'assegno ovviamente diventerà più leggero più basso del solito per quasi la totalità dei fruitori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza beh per quanto riguarda la pensione di cittadinanza che cos'è è una misura di contrasto alla povertà delle persone anziane e rivolta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiori ai 67 anni adeguata agli incrementi della speranza di vita l'importo della pensione di cittadinanza è 700 180 euro un massimo di 780 euro per ogni persona adulta e disoccupata singolo senza alcun reddito per chi ha un reddito sotto soglia il reddito di cittadinanza integra gli importi percepiti sino ad arrivare a 780 euro al mese naturalmente la pensione è composta da due voci come dicevo l'integrazione del reddito e da un'altra voce per un massimo di 630 euro mensili si arriva complessivamente a 780 euro io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti poi c'è anche l'altro c'è anche l'altro canale che si chiama tele italia seconda rete dove trovate video di politica notizie e fai da te intanto grazie nuovamente ci sono anche i sondaggi qua nel nella community di questo canale se siete interessati a parteciparvi ovviamente tutto gratis ci mancherebbe arrivederci a tutti e grazie grazie